Grazie a tutti Grazie 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 ma salti e non quadrati che scossa diciamolo con un patate la tua grazia vale più della vita le mie abria ti hanno la tua valore così ti prendi l'altro di che l'esimo il mio dono è la strada di me e la sera come andato e con voce ci muoia di più della vita nel mio giacinio di te mi ricordo perciò sordine le medie notture tu sei stato di aiuto il punto di gioia all'ombra dei tuoi anni a te si stringe l'anima mia la forza della tua destra mi sostiene questa panza di silenzio mi diciamo che un canale a queste bellissime ruote di me ti racconterò tra gli uomini alla fine del tuo bisogno o Dio tu sei il mio Dio all'aurora di cielo di te assente l'anima mia e tutto ha approfondito un rapporto con la chiesa e con Dio e anche perché il rapporto tra tutti i ragazzi è stato molto buono e con poco tempo mi sono trovato molto buono io in questo canto mi sono trovato molto bene in realtà problemi sulle tematiche sulle cose che sono state fatte l'orario per esempio io mi sono trovato bene perché molti ragazzi e ragazze conoscevo già perché inizio l'attivante questo anno mi conoscevo già l'ottomato non sarebbe molto importante per il futuro per affrontare meglio la vita l'orario? l'orario non ho trovato nessuna difficoltà sia con gli amici che con la camerata poi l'orario non ho trovato nessuna difficoltà non ho trovato nessuna difficoltà i rugatori come sempre tu hai capito i rugatori fanno sempre lo stesso modo e a me mi sta bene poi da mangiare da mangiare va benissimo e basta non c'è niente da necronizzare che è niente della vita ma facciamo più inizio ma il l'orario il campo di più anni come si stava scendendo è sicuramente per bene ma è un campo diverso da tutti gli anni perché è completamente diverso queste begheriche sono stavolose ma a me mi stanno bene come si stava poi nel camerata insomma qualche scherzetta al centro è l'introdotto Non è stato mai fatto nessun campo, cioè portare delle persone a parlare di più problemi, quindi si è più approfondito. Gli argomenti che abbiamo portato nel pomeriggio sono stati problemi, e se ce ne sono altri che vi interessano, il prossimo anno si può allargare. Grazie, silenzio. Allora, in tre anni di campo scuola questo è stato l'unico, mi va tutto bene, tematiche, orario, ma cosa so la che mi hanno fregato di tutti. Era quella con la ricotta, quella con i pirali.